Sono solo 5 le vittorie negli ultimi due anni e mezzo del Catania, lontano dal Massimino. Un dato allarmante, anche perché l'ultima vittoria esterna è arrivata contro la lupa Castelli Romani a fine novembre. Quasi un anno, dunque, senza trovare l'acuto da tre punti lontano dalla terra familiare casalinga, che vedrà ancora una volta il Catania allontanarsi in vista del weekend. Tanato è un campo ostico per la quarta trasferta del Catania in questo campionato degli etnei. Gara viva quella di Andria, dove il Catania ha almeno due nitide palle gol per passare in vantaggio, così come di subire il gol dei padroni di casa. Tuttavia, se in terra pugliese è Pisseri a prendersi la copertina con parate che lo portano nell'Olimpo, a Reggio la difesa è stata mandata all'inferno per aver concesso l'unica palla gol poi realizzata dall'attaccante calabrese di una gara di ordinaria amministrazione. L'unico acuto stagionale di Russotto a Reggio Calabria nel gol di Piscitella, che apre le danze, ma che di fatto non porta tre sperati punti a casa. Il Catania non concede sbavature, ma l'errore di Drausio costa caro e ancora una volta un episodio punisce il Catania. Poi Matera, dove un punto è quasi oro contro una formazione che schiaccia sassi tra le mura amiche. Gara ruvida quella lucana. Con un Catania bravo e fortunato in più occasioni. Negro e infantino divorano la qualunque, ma quando dal dischetto il Catania poteva perdere è ancora Pisseri a erigersi a mura invalicabile, per stringere al petto un punto molto importante. Per la banda di Rigoli le mezze misure adesso stanno però strette. La classifica comincia a chiamare a gran voce un Catania che deve avere a Taranto la fame necessaria per uscire con tre punti dall'ennesima insidiosa trasferta stagionale. Servirà attenzione e cinismo, spesso mancati nei precedenti appuntamenti, per mettere la parola fine agli spiragli di una crisi già nell'aria di una squadra che ad oggi sembra aver scordato come si vince.